Ok, no a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite, siamo in compagnia del Dino Diorco più abusivo del mondo E quest'oggi andremo a vedere una sfida magica tra l'hacker italiano che chissà se utilizzerà le hack o no, non lo sappiamo Contro il nostro caro Ukocco perché, raga, Ukocco l'ha voluto sfidare, quindi tanta tanta roba Ma prima di iniziare vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link della mia Amazon Wishlist Se volete passarci a darci un'occhiata e magari farmi un regalo, io ne sono molto molto onorato E soprattutto, signori, ho inserito un altro link molto interessante che se volete magari regalarmi un caffettino Potete passarci e fare una donazione da un euro a quanto vi pare Sììì, dico un ratino abusivo nello shop e ci vediamo direttamente in game Ma dai da spettatore, guardiamo Mario il... Allora, per l'administra... No, guarda pure io Non guardare niente Ah, 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 ragione, 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 lo sappiamo noi, quindi non possiamo sapere neanche le armi che utilizzano Mmm, sta cosa mi puzza, eh, frate, puzza sempre di più No, 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 vabbè, ragazzi, facciamo così Comunque, come ti senti, confidenza? Ma io sono una favola con lo sfondo, pure Magerla Ma che va a fare? Scusa, amo, ne scavano ora, ne rompo tutto Oh, poi qua partono le minacce, uno v uno Più forte Vai C'è sto Allora, ti capisci che il Cilest è più forte del team Sì, sì Un mostro, sì Un mostro Fortissimo Sì, so, è più forte al mondo in Italia Eh, gli hanno fatto fra, XM sta per XMostra, era troppo forte per l'X Eh, è questo XMostra Poco, che cazzo stai facendo? Aspetto il geyser, no, rincoglioniti Il geyser, aspetta Mo' piglio la taglia Ah, ce l'hai presa te Lui vive nel suo mondo Vive nel passato Eh, c'ho la skin del viking apposta Eh, giusto, giusto Non farebbe Capito, no Beh, intanto lo possiamo vedere, Marioville, se sta avvicinare Va verso Megacity Fai Megacity sul serio, ma? Eh? Fai Megacity, sei matto Eh, la taglia è qua, cazzo lo fa? Eh, ok Non è, è pulito, è pulito Ma tanto, non lo sa che è Megacity, è morte Megacity l'ho creato io con le mie possenti spalle Mario, li sta sparando? Ok, Mario li sta sparando Ok, Mario li sta sparando, ho controllato, non ho visto Mario, li sta tranquillo Neanche io voglio aver problemi Ok, io ho visto un mezzo inizio dei fight, però vabbè dai Cambiamo, cambiamo C'è la gente, è dappertutto Sono dappertutto, eccolo Oh, eccolo, bello, Gocco Eh, sono due contro uno, come? Eh, sono due Io non so cosa scherzata, sono due bozzi Mario, non so che tu sia Ok, Mario ce l'ha fatto uno Mario ce l'ha fatto uno Sì, ero banche le kill Mario è morto Oddio Dai, io go Go, go, quanto missi? Dai, oh, madonna Come non l'hai preso Bello, vabbè Sei costretta rianimarlo Sei costretta rianimarlo Sì, però non è giusto Mi sei impallato il mouse qua Mentre gira Eh, oppure le acche Eh, vabbè Eh, magari l'aveva Attivate male, fra Non ballare Sì, sì Ballo sulla Allora, ricordiamo Il resto, va come una kill Eh, quindi mi dispiace Il tuo a uno siamo Se lo resto Se lo rebutti Anche il resto Qua è la stessa cosa Va bene, va bene Ci sta Ci stanno a collo Ma la collo Eh, vabbè, giusto Ugo, è mi stato sei volte Po, frad Ho appena acceso Sì, ha appena acceso Tutto sudato Ho appena acceso Sta tutto sudato La Vado a giocare a tennis Dai, sbregatele Sa che siete rimasti Già in 25 Dai Sei al pari di Ciris Vai, se mi fai 18 kill Il mio account è tuo Vai Lo uso come secondo account Solo per Omega Anche se non hai le luci Ok, almeno in area Ti posso guardare Ben tornato Siamo tu a uno Perugano La partita appena iniziata Let's go Let's go Ah, io mancavo visto Ho finito lo shield Va bene Vabbè, ma le armi Però ce ne possiamo Spizzare Anche le armi che prende Sì, sì Va per quella Quella Viola Il compadoro Di Mario Che non conosce bene Le armi Capite Guarda Sulle Pompà zebrato d'oro Non ci fa tanto affidamento Eh, Mario Che non è Non fa schifo Ma non è neanche buono È buono solo perché è veloce È un po' una merda Esatto Oh, Ukovo Subito Il dissing Ti fa una L gigante Guardalo Guarda Ukovo Non puoi guardare Guardalo bene Che è? Ma che devi fare? Perché ti sope No Ukovo che fa il trollino Sì E si ruba tutto il loot Mamma mia Ah, che pollo Vado a prendere il loot Vado a prendere il loot Vado a prendere i succhi Vado a prendere i succhi Ukovo Veloce vai Sì Vai Un ammari Per Dai 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 Che ci sono solo uno per uno È appunto E' buona Non è fatta Non vuoi niente Non vuoi niente E' l'altra Non vuoi niente Sono fortissime Non ho bisogno Ecco Ah, beh Beh, beh Abbiamo capito Tutto Solo Quei città Non ha detto Non mi bella Portami dove vuoi a fare in culo via no e misi nemici nemici e mi sembra quella peccato nemici sono fai tanti ai tutti i miei tra le faccole cure è di amore sa vai me li faccio io ecco ne uno un piero guardavo come arriva guarda che mi costruisce e occhio che c'è qualcuno con lanciarazzi e raga con lanciarazzi ho sentito sparare con lanciarazzi la spada la spada laser cosa sta succedendo raga occhio e troppa troppo uno scendino dorato a mario e no quello dorato che ti fa full vita sotto di voi tra l'altro che sta succedendo visto non è un macello che sta succede sopra sopra dove stavano a ributta e quelli hanno attirato praticamente tutta la lobby qua e ce l'hanno preso l'ora e pizze grande giocata ragazzi la scelta migliore della vita raga mario lo stanno spammando sta ballando mario mi sta combattendo che sta succedendo non sopra un guavo flex a così le build a caso ma vabbè per modo dei divali bill non è non è non è mario potrebbe anche qualcosa per mille o come se ne va la mostra giusta la mostra che avrei fatto anch'io la mostra che avrei fatto anche hugo e penso che anche mario lo insegue o mario madonna quanto è rischiato ci hanno anche male che sta arrivando sta arrivando o non mi portò da me come noi portavano la tagliela uno pare tutti i trucchetti hugo ma sei notto dai dai il succhetto con tre di vita va bene va bene per favore in ginocchio e speriamo un cuovo bello e non lo guardo ci va bene cambia anche io dai non guardo ma ti hanno bussia stanno da te o stanno lì eccoli qua ma quella è quasi morto vai bravo ok quasi poi se gli avessi dato gli scildini ok si muore mario il conto ti giuro un poco conto una chi una kill per lui per mario sì sì assolutamente sono pienamente d'accordo che sempre preso non è nato neanche uno è dove sta scritto che glielo dovuta io è una regola qui no pietro mazze finito mazze occhio occhio non è non è non è un guavo spostati un guavo spostati un guavo è morto con i succhetti ma è arrivata a marioville e lo vedo da lontano che scappa dal imazzo succhetti vota succhetti vota succhetti li moriamo tutti e due ma come o comunque un guavo c'è marvagio fino all'osso è andato stondando stonda se lui venisse a che aveva saputi i succhetti ma se li faceva tranquillamente altro succhetti deve si è preso 4 va bene no 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 quel cosa che ho detto siete due a due per me io sono morto per aiutare perché sei un coglione ecco perché si è coraggio perché dove andate a mario video lo so se vabbè c'è una brutta persona secondo tentativo 2 a 2 lo regalo detto perché ho chiesto perché posso vedere solo mario però aspettate anche a me fa vedere solo mario basta che ammette a nulla e torni mettiamo lettori mario che ecco che avete ha fatto uno mario il ok va bene c'è lo stagio come secondo te che utilizzare hack aspetta che c'è uno a tuo cavo è esploso che ha vinto e mario ha fatto una ghiera in più 3 a 2 non l'ha confermato non l'ha confermato non l'ho confermato l'hai confermato o no mario perciò l'hai ucciso oppure l'ho accettato no l'ho ucciso era molto eliminazione uno salita ti faccio quello che mi fido mi fido quindi io vi ho dato due tentativi a due tentativi ho dato e niente ragazzi che dire per questo video penso che possa essere tutto io vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto soprattutto un commento che ho scritto qui sotto cosa ne pensate se pensate che ho utilizzato le hack se non le ho usate se ne ho usato soltanto una minima parte o no chi lo sa raga oppure semplicemente l'automira ragazzi può darsi può darsi a mirare un po meglio ci sta condividete il video con chiunque iscrivetevi al canale passate da instagram vai ci sto ci sto bella raga vai la raga iscrivetevi al canale passate da iscrivetevi al canale passate da Grazie a tutti